Sono state ore di grande apprezzione per i parenti di due ragazzini di 12 e 14 anni, due fratelli, a quanto si apprende dalle autorità. Mancavano da casa dalla tarda serata di ieri, pare fossero ospiti dei nonni, nella zona del Basso Casentino in provincia di Arezzo. Non avendo fatto rientro, sono stati i nonni a mettersi alla ricerca in un primo momento improprio dei due ragazzi, poi hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine. A raccogliere la denuncia di scomparsa sono stati i carabinieri di Arezzo. Le ricerche coordinate dalla prefettura di Arezzo sono andate avanti fino alle 11 del mattino, con l'impiego anche dell'elicottero dei vigili del fuoco di Arezzo che ha sorvolato la zona per ore. Per fortuna poi, la bella notizia, i ragazzi sono tornati a casa spontaneamente e sono sani e salvi. La conferma arriva dalla prefettura. Una vicenda dunque che si è conclusa positivamente ma che poteva certo avere un diverso epilogo.